Santeramo in colle formalmente in zona gialla ma di fatto rossa per l'incremento dei contagi. L'allarme del primo cittadino del centro del barese Fabrizio Baldassarre che argomenta così dai social l'adozione dell'ordinanza che dispone la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole della città fino al 20 febbraio prossimo. E così finisce che alle scuole dell'infanzia elementari e medie già chiuse con un precedente provvedimento si aggiungano anche gli istituti superiori e quelli per l'infanzia paritari e nidi. Solo qualche giorno fa l'allerta formalizzata dal titolare della fascia tricolore 144 nuovi positivi dal primo febbraio all'esito di tamponi di metà settimana. L'80% dei nuovi casi positivi accertati riguardava il contesto scolastico e lo stesso comune aveva registrato anche il decesso di un insegnante 44enne proprio a causa del virus. Intanto è Federpharma a tracciare il primo bilancio dell'avvio della corsa le prenotazioni per il vaccino anti-covid per gli over 80 nelle farmacie di tutta la regione. L'associazione di categoria non nasconde criticità e rallentamenti iniziali della piattaforma ma rassicura su come il sistema stia reggendo al netto di problemi con il sistema che pure hanno causato l'insorgere di code all'esterno dei punti prenotazione. Il ritardo nelle consegne delle dosi intanto ha rallentato anche la vaccinazione dei medici liberi professionisti e odontoiatri secondo la riunione in videoconferenza del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Bari.